buongiorno benvenuti ben ritrovati a occhio ai giornali come sempre tutte le mattine iniziamo lo spazio dell'informazione qui su fano tv proprio sfogliando guardando insieme a voi i giornali i titoli principali quello che troveremo poi come dico sempre in edicola allora questo lo faremo però non prima di aver dato un'occhiata al santo del giorno e alle previsioni del tempo naturalmente partiamo dal santo del giorno vediamo oggi venerdì 8 settembre la chiesa osserva la natività della veata vergine maria il sole è sorto alle 6 e 39 e tramonterà alle 19 e 32 queste sono le previsioni del tempo per oggi e per il fine settimana partiamo da oggi vedete un po di instabilità nuvole sole anche simbologia della pioggia però le schiarite vedete arriveranno nel tardo pomeriggio quindi nel tardo pomeriggio il tempo girerà sul bello quindi residui piovaschi durante la notte nel primo mattino e anche deboli piovaschi durante le ore centrali sulle zone collinari e interne e chi uscirà di casa fra poco o chi già è uscito come noi avrà visto che insomma le strade sono bagnate quindi nella notte c'è stata la pioggia le temperature sono naturalmente in in diminuzione nei nei valori minimi la giornata di domani anche qui all'insegna della variabilità però perlomeno la pioggia non c'è quindi il cielo sarà inizialmente sereno poco nuvoloso però le nubi andranno a intensificarsi nella seconda parte della giornata però vedete le precipitazioni non ci sono né sulle zone collinari né anche sulla costa quindi le temperature aumenteranno un pochettino nei valori il mare è poco mosso domenica invece sostanzialmente almeno qui sulla carta sulle previsioni della protezione civile delle marche il tempo cambia ancora nuvoloso con arrivo di nubi stratificate da ovest e maggiori addensamenti nelle zone interne e anche precipitazioni sono presenti nel corso della mattinata deboli diffuse e anche in estensione nel resto della regione nel pomeriggio e localmente ci saranno anche le possibilità di qualche temporale di qualche rovescio vedete anche sulle zone interne la colorazione delle nuvolette qui nella simbologia è più intensa e le temperature sono in lieve diminuzione facciamo una prospettiva vediamo la tendenza per i giorni successivi della settimana entrante vedete tendenza appunto di transito di perturbazioni che determineranno condizioni all'inizio della settimana insomma un po' particolari sicuramente peggiori di quelle che abbiamo adesso però dalla metà della settimana entrante ci sarà un miglioramento quindi insomma un po di ping pong tra tempo bello e tempo brutto tempo instabile questo ce l'ha detto anche il meteorologo ieri ieri sera durante il telegiornale è così insomma prendiamola per quello che è d'altronde abbiamo avuto un'estate lunghissima caldissima quindi insomma adesso è giusto che sia anche così allora i giornali entriamo subito nei giornali nel giornale perché il Corriere Adriatico nel formato digitale questa mattina non siamo riusciti a scaricarlo nessun problema per il resto del carlino però insomma il Corriere Adriatico è in edicola regolarmente e vi faccio vedere soltanto la pagina di apertura l'unica che siamo riusciti a scaricare quindi la pagina di apertura dell'inserto del Corriere Adriatico in titolo di testa riguarda Mariotti e il suo addio al ROF presa la decisione giusta il sovrintendente si dimette per la legge Madia gli accertamenti alla Corte dei Conti e poi in fotonozizia centro pagina il proseguo dell'indagine della vicenda dello stupro di Rimini il capobranco addirittura positivo alla tubercolosi Butungu trasferito nel carcere di Pesaro nella sezione sex offender uno dei minorenni lo accusa e dice voleva violentare anche una nostra amica spacciano i parchi, scattano anche gli arresti all'interno ci sono articoli sul Miralfiore e sugli altri parchi di Pesaro viabilità per la fiera di San Nicola, scattano i divieti nella zona mare da domani parte appunto la fiera come cambia la circolazione lo troverete appunto nelle pagine ineterne del Corriere Adriatico e poi marchigiani prigionieri della furia dell'uragano insomma le esperienze tragiche di alcuni marchigiani a Fort Lauderdale dove si sta appunto abbattendo in Florida un violento nubifragio allora la pagina di apertura invece del resto del Carlino anche qui tema principale la sicurezza e anche la vicenda degli stupri prova del DNA per il branco passaggio fondamentale questo nelle indagini e altri casi vengono passati al setaccio per vedere se queste persone, questo branco così come viene identificato è responsabile anche di altre aggressioni il capo da ieri è recluso, lo vedete qui nella foto Butungu nella sezione appunto i crimini sessuali e il fratellino tredicenne dei marocchini scrive un post in difesa del loro onore allora centro pagina, foto notizia appunto vedete Parco Blindato mentre si indaga sulla presunta violenza alla quattordicenne presidiato il Miralfiore e intanto a Borgo Santa Maria un'altra mamma denuncia e i residenti chiedono di ridurre a 22 i profughi residenti anche qui nel resto del Carlino le dimissioni di Mariotti dal ROF poi altri lavori lungo l'Interquartieri Campus nuovo distributore subito arriva l'American Graffiti e poi per le moto della Benelli e sono in arrivo sinergie cinesi e con la Volvo ancora allora guardiamo le pagine che riguardano la vicenda del branco e degli stupri sono adolescenti lasciati soli con se stessi l'educatore di Vallefoglia che li seguiva e dice la cultura magrebina non c'entra noi ci abbiamo provato dice il territorio ha cercato di aiutarli sopportando anche il loro bullismo indaga Stefano Celli il PM incaricato dell'indagine sullo struppo è stato per molti anni anche alla procura di Pesaro quindi un uomo di grande esperienza a capo di questa indagine così delicata il fatto poi è successo mercoledì si riporta un fatto di cronaca qui a piedi pagina del Carlino il gruppo di Roma arriva in un bar e inizia a picchiare il titolare è venuto alle 11 all'isola Caffè in via 24 maggio un cliente del locale è finito all'ospedale questo è successo mercoledì scorso la pagina di Pesaro in primo piano pagina 3 appunto parla del DNA per i 4 del branco le indagini si intensificano anche scattano le verifiche e i raffronti anche su altre aggressioni sessuali nelle due città il capo del gruppo della banda lo vedete qui Butungu è recluso a Villa Fastigi in una sezione speciale che invece a Rimini non hanno nel carcere di Rimini non hanno divisi i fratellini di Vallefoglie uno è arrestato a Bologna e vuole parlare con le guardie carcerarie l'altro è stato portato a Torino troppe le versioni contrastanti i minorenni sono contro il congolese adesso scatta appunto le accusi e le controaccusi lo scarica Barile come veniva definito ieri dai giornali la partita che si sta giocando è questa le dichiarazioni contrasposte su quanto è accaduto per lo scarico delle responsabilità e poi sui social il fratellino tredicenne di uno dei due interviene sul profilo facebook del fratello Maggiore scatenando anche i commenti l'onore dei due fratellini marocchini difeso da uno e da un altro dei fratelli il parco Miralfiore è blindato purtroppo teatro in scenario di diverse aggressioni ora è presidiato e blindato vediamo i giorni del terrore in titolo del Carlino i migranti nel Mirino extracomunitari troppo numerosi in quest'area e anche in tutto il paese parco blindatissimo noi però continuiamo a frequentarlo come vedete un utente del parco a passeggio col cane una mamma con il carrozzino che non rinuncia alla sua passeggiata ma le forze dell'ordine la polizia municipale assieme a carabinieri e polizia presidia il parco poi anche nell'altra pagina la vedete qui di fianco ve la faccio vedere c'è una foto a due pagine che ritrae appunto dei bambini sotto la soveglianza dei genitori che giocano in maniera spensierata viaggio nel verde troppo alte le siepi vicino ai giochi si prestano agli agguati di malintenzionati che insomma usufruendo delle fronde insomma si celano alla vista delle forze dell'ordine delle mamme chissà che cosa possono fare si parla della fiera di San Nicola nelle pagine del resto del Carlino che diventa extra large ma molte bancarelle anche tante ma oltre alle bancarelle anche tante divise quindi tanta sicurezza inizia prima e dura di più il tradizionale appuntamento di fine estate vedete qui una foto di Viale della Repubblica durante la festa di la fiera di San Nicola ci saranno barriere fisse naturalmente come le disposizioni ministeriali richiedono nei punti d'accesso tutti presidiati anche dai volontari della protezione civile quindi tutte le fiere tutti gli eventi dove ci sono assembramenti di massa quindi concerti fiere e quant'altro hanno un protocollo di sicurezza ormai da Torino in poi stabilito e ben codificato che deve essere applicato ogni volta da questure e commissariati vari a Fano nelle pagine del resto del Carlino si parla del caso della Duomo GPA fibrillazioni in comune agenzia cancellata dall'albo ministeriale asedentrate dice non ci risulta le rassicurazioni ai cittadini che continuano a versare i contributi e il comune a riscuoterle quindi insomma sostanzialmente non cambia niente poi sabato ci sarà una festa particolare al Codma ogni anno c'è la festa del socio della BCC anche quest'anno verranno distribuiti bonus bebea 250 neonati per i figli di soci e dipendenti anche si parla di arte nelle pagine del resto del Carlino l'arte naturalmente è quella di abitare perché in aste di partenza l'evento Aria che dal 15 al 17 settembre si terrà nei giardini Roma del Pincio giardini rimessi a nuovo strutture del Pincio riportate al loro status originario nuova ghiaia portata lì mura ripulite dalle scritte dalle imbrattature insomma un bel sito per una iniziativa che parla di casa di tutto quello che gravita attorno al mondo della casa 360 gradi tante le novità tanti espositori numeri allargati rispetto alla prima edizione tante occasioni per valutare energie rinnovabili tutto quello che è il living e anche altre possibilità ma ci sono anche ci sono anche intrattenimenti per i bambini c'è il ristorante sulla terrazza del Pincio insomma è una tre giorni da godere tutta quanta non solo per la location ma anche per le possibilità che questa offre e poi un'altra manifestazione importante per Fano che ha preso il via ieri parliamo del festival internazionale del brodetto delle zuppe di pesce che oggi entra nel vivo inaugurata ieri la manifestazione si è partiti subito con il con il botto come si dice perché dopo l'inaugurazione il taglio del nastro sul palco si è partiti con un cooking show di grande effetto quello di Giorgione Giorgio Barchesi che insomma è un cuoco uno chef famosissimo perché è una star televisiva amata da tantissime quindi insomma si è partiti subito con la sua versione di brodetto ma in questi giorni ci saranno altri chef stellati e noni che si daranno il cambio sul palco per i cooking show tanto amati allora a parte le le mostre le fiere quello che c'è l'intrattenimento si parla anche di cronaca nelle pagine del resto del Carlino e i carabinieri arrestano un 38enne che stava scontando una pena per un processo di stupefacenti e furti siamo a Mondolfo fa cazzotti con un compagno della comunità ed evade poi insomma in meno di 24 ore i carabinieri lo rintracciano perché tentava di ritornare a casa dei genitori da Sasso Corvaro quindi a Mondolfo è stato beccato ecco cosa accade ai vostri figli nei locali ai vostri figli nei locali scusate dopo l'episodio della quindicenne ubriaca persa un autista di ambulanze racconta che cosa accade ai figli nei locali e quando sono fuori casa la sua testimonianza e poi per ragazzini insomma che perdono il tempo alle volte in attività che non sono proprio consone alla loro età ce ne sono tanti invece che si impegnano per per dare veramente grande senso alla propria vita alla propria adolescenza è il caso di questa ragazzina di Santipolito è l'atleta la nipote dell'atleta centenario Giuseppe Ottaviani audacia determinazione e costanza così si diventa campionessa di trampolino la vedete qui in una foto che è molto plastica in una posa molto plastica che la ritrae durante una sua evoluzione mozzafiato in picchiata e anche in pirolette e capriole da palmaresse dopo il dopo il quarto oro consecutivo ai campionati italiani assoluti resta naturalmente per lei il sogno delle olimpiadi leggete l'intervista di questa atleta nel nel resto del carlino perché è molto bello vi dà l'idea della maturità che hanno questi questi ragazzi e poi a Mondolfo torna la cacciata domani anteprima poi il gran finale la cacciata appunto vedete qui un'immagine che il titolo cacciata prende prende spunto da un gesto che si fa con il durante il gioco del bracciale appunto questo è la pagina di Urbino zitti zitti aumenta il parcheggio si parla di questioni pubbliche Grespini dice il comune ha variato tariffe e nessuno sapeva niente zitti zitti quattiquati quindi aumentano il parcheggio non nel numero ma nel costo da ristrutturare naturalmente siamo nel parcheggio di Borgo Mercatale che quelli che frequentano Urbino lo conoscono molto bene costruito negli anni settanta ma necessiterebbe di una remission form l'ultima pagina che vi faccio vedere per questa rassegna stampa mono testata quasi riguarda Urbino e provincia eccola qua i velocipedi insomma questi strani aggeggi queste biciclette della prima ora la ricerca dell'equilibrio due concorrenti del biciclo ottocentesco di Ferminiano per questa direi spettacolare esibizione da oggi a domenica giornate all'insegna del divertimento per tutti girano veloci le ruote degli antichi bicicli tre giorni di sfide all'ultima pedalata vedete qui sicuramente la ricerca dell'equilibrio è cosa abbastanza difficile insomma bisogna saperci andare ma sicuramente una corsa con questi bicicli sarà sicuramente spettacolare bene questa è l'ultima pagina nonché l'ultima notizia che vi facevo vedere per questa rassegna stampa di oggi occhio ai giornali torna domani mattina alle 7.30 puntualmente e questa sera logicamente l'appuntamento con il telegiornale occhio alla notizia sfruttate sempre il nostro numero il nostro numero per le segnalazioni che insomma è importante per noi avere da voi quello che succede intorno al vostro habitat le vostre segnalazioni per noi sono importantissime grazie per essere stati con noi anche questa mattina non mi resta che augurarvi una buona giornata a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti